La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Natalino Boscolo Zemello. Il 37enne di Chioggia ha accusato di aver massacrato la moglie 37enne Mayla Beccarello, uccisa con calci, pugni e colpi di bastone la mattina dell'8 agosto 2018 nella loro casa di Cavarzere. Soddisfatta la zia, portavoce di famiglia. Siamo soddisfatti, veramente. Non potevamo volere di più, tra l'altro abbiamo anche dei ottimi avvocati, sono sincera. Giustamente non esiste l'ergastolo, ci dobbiamo accontentare di questi 30 anni, nella speranza che li faccia tutti, quello è il nostro pensiero, che se li faccia tutti perché considerando che ormai Mayla non c'è più, quindi la luce del sole non la vede più. Giustamente non esiste la pena di morte, tra l'altro sono anche i contrari, altrimenti sarei uguale a lui. Preferisco, cioè se... L'unica soddisfazione che possiamo avere è che rimanga lì 30 anni. Dopo giustamente nulla, qualsiasi pena, qualsiasi risaltimento, qualsiasi cosa non ci darà indietro Mayla. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe massacrato di botte Mayla e poi chiamato il 118 la mattina. In aula non ha avuto alcuna reazione alla lettura della sentenza. Impassibile, proprio impassibile. Non ha dato cenno di qualcosa. Niente. Alcuni familiari di Mayla, sostenuti dalle associazioni Presidio di Padernello e Altea PS, hanno manifestato davanti all'aula bunker per chiedere che non ci fossero sconti di pena. La morte di Mayla non si avana, è l'appello della famiglia. L'appello che io posso fare è tutte quante di denunciare, di fermarsi, di guardarsi e di chiedere aiuto. Quello sì. L'unico appello che posso fare è questo.